Ma gliele rinnovo per questo suo importante traguardo Grazie mille, che carino Traguardo invece di raggiungere la Juve Anno il 21, poi ci arriviamo alla Juve Ha fallito e adesso io vorrei sapere da voi Io non ho l'orologio Che ore sono? Dove? Le 23.36 23.36, la partita è finita da un'ora, minuto più, minuto meno Quando erano le dimissioni di Gratina Ecco, ma non sono ancora arrivate qui sul mio tavolo Le dimissioni di Naccarato Chi? Com'è che si chiama? Naccarato, mafinato, come si chiama? Naccarato? Eh, non lo so Naccarato? Quello là, il vecchietto, il vecchierec canuto stanco Che c'era lì a fine partita Quello l'hai detto davvero Nicolato Nicolato Se voglio le dichiarazioni di Nicolato Che tra l'altro riuscito a fare una cosa Riuscito a fare peggio La prima parte con la Francia ce l'hanno defraudati Poi con la Svizzera Ragazzi, scusami Questa sera ha detto che l'Italia non meritava tre punti E meritava di passare Ma dai, ma allora, allora Me lo ricordo